tutti in pista ogni martedì sera con ballando le cupole si balla e si cena con le migliori orchestre italiane in diretta dal salone delle feste le cupole di cavaller maggiore presentano la serata sonia de castelli e piero montanaro e ospiti eccezionali e poi si mangia bene quindi perché mancare un altro martedì nostra compagnia però salutiamo anche amichevolmente il pubblico a casa martedì 3 marzo si balla con roberto polisano e ci si diverte con la comicità di marco e mauro benvenuta ballando le cupole complimenti per la maschera complimenti per la maschera e anche a suo marito complimenti per la maschera di suo marito che si è messo quel naso da piero montanaro non mancate all'appuntamento e prenotate fin d'ora la vostra cena al numero 0 172 71 33 33 o se vuoi anche solo ballare vieni tutti i martedì a ballando le cupole ma è solo mattino in diretta a partire dalle 20 e 45